Ciao a tutti e bentornati con una volta su Indie Gameplay Ita, oggi siamo su Dismantle, un gioco che uscirà agli inizi di novembre, di cui al momento della prova non so ancora il prezzo. È un gioco che ricorda molto quello che è un project zomboid, ma questo è poi un mio modesto parere, molto mixato con delle meccaniche che ricordano un pochino quelle dei falò di Dark Souls. Non è un gioco semplice, dicevo che ricorda il project zomboid, perché si può coltivare, si possono fare tante cose, però lo trovo piuttosto guidato, perlomeno all'inizio, io l'ho già iniziato da un po', non volevo partire proprio dall'inizio inizio. Lo proviamo un attimino insieme, questo vedete è un falò, abbiamo lo scopo di lasciare l'isola, l'early access durerà, dicono dai 3 ai 6 mesi, e al momento, probabilmente quando uscirà, avrà, come anche la versione di gioco che sto provando ora, un terzo del gioco. Le costruzioni si potranno fare, ma non a questo punto, quindi è un gioco che ora vi mostro nelle sue meccaniche base, e poi lì sarete voi a decidere se vi incuriosisce o no. Vedete che il gioco è iniziato in questo quadrante, dove ho dovuto sbloccare vari falò, sbloccare e recuperare vari oggetti, e poi sbloccare il cancello, sconfiggere il boss e passare alla zona successiva. Qua dobbiamo arrivare in questa zona qui, al momento non so come arrivarci perché l'unico punto è aprire questo cancello, ma qua c'è un terminale accessibile solo passando attraverso questa casa qui, ricorda anche un po' quel gioco Zombicide, ecco, un pochino come, diciamo, mappa. Solo che mi serve un Grimaldello e non ho la minima idea di che cosa serva per farlo. Allora, vi mostro il camp. Allora, praticamente, ogni volta che voi dormite un falò, salvate la location dove siete, dove avete acceso il falò, appunto, e ripartite da lì in caso di morte. E soprattutto in caso di morte vi resta il cadavere segnato con una sorta di tomba. Se tornate lì e recuperate l'equipaggiamento, se morite di nuovo, perdete il cadavere e vi resta il nuovo. Vedete che poi voi potete colpire e recuperare questi oggetti. Questi oggetti, nel momento in cui voi tornate al falò e cliccate sul falò, gli oggetti passano direttamente all'inventario. Nel falò potete fare tre azioni. Inventare e craftare. Quindi inventare significa, appunto, sbloccare delle ricette spendendo dei punti. In realtà, sbloccare, potete andare a creare anche degli oggetti e vedete che qui mi dice che cosa serve. Scrap, metal, plastic. E cliccando qui potete tracciarli e quindi vederli sempre in sovraimpressione sullo schermo. Ma al momento, onestamente, vedete che alcuni sono sbloccabili solo a un determinato livello e io al momento sono a livello 2 e quindi non posso fare assolutamente nulla. Ho trovato in giro la ricetta del cooking pot, per cui sto lavorando. Mi serve ancora della ceramica, dello scrap metal e così via. Potete upgradare gli oggetti che avete all'inizio. All'inizio avete il backpack, che sono praticamente gli slot che vedete sotto. Adesso poi ve li faccio vedere. E la crown bar. La crown bar è, diciamo, quel piede di porco che usate per distruggere le cose. Aumentando il crown bar vi fa, vedete qua sono ancora in alto mare per aumentarlo a livello 2, a livello 0, a livello 1 adesso, vi consente di fare più danno, ma soprattutto quando attaccate alcune cose, come questo, lui dice, va bene adesso l'abbiamo abbattuto. Se attacchiamo qualcosa invece di eccessivamente robusto, lui ci dice, devi aggiornare il crown bar. Vedete? Il danno a 60, quindi dobbiamo andare ad aumentarlo. Poi, altra cosa ancora, l'inventario, dove ci mostra tutti gli oggetti che abbiamo all'interno, le quest, perché di quest ce ne sono, la mappa e le collection con tutte le cose che abbiamo trovato. Vedete i materiali che possediamo in questo momento. Qua vedete una quest e qua possiamo andare a sbloccare questa quest e ricevere esperienza, inventare e craftare il sacchetto dei semi, piantare un seme e raccogliere un campo, quindi c'è anche una sorta di harvesting. È una bella domanda quella che vi state per fare o che vi siete già fatti, ma non so darvi una risposta, cioè non so se dopo, più avanti, ma penso di sì, ci sarà libertà piena di gestirsi. Sicuramente dovendo lasciare l'isola non ci stabiliremo mai in un punto per tanto tempo. Comunque, vedete che adesso dobbiamo esplorare in alto. Adesso qua all'interno vedo un relay che non so che cosa serva, onestamente. Adesso faccio un po' di pulizia qui, poi andiamo a provare i nemici. I nemici sono veramente tosti bisogna, vedete, si può... Allora, vi dicevo, l'inventario questo sotto può raccogliere fino a cinque elementi di un oggetto. In questo caso raccogliendo la foglia mi passerebbe di qua. E infatti, vedete che è fatto. Non so questa cosa, che cosa serva, questa antenna. Vedete che poi possiamo interagire con l'ambiente. Dobbiamo distruggere tutto quello che troviamo. abbiamo trovato spezzi, insomma. Andiamo avanti. Andiamo a esplorare un pochino. Anzi, prima di farlo io deposito tutto qui perché non si sa mai la fine che possiamo andare a fare. Abbiamo senza salita un livello in più. Possiamo prendere un bonus, più punti vita, più danno da corpo a corpo o più esperienza. Io prendo più danno da corpo a corpo perché mi interessa quello. Tra l'altro, forse possiamo anche andare a craftare, sbloccare, a livello 4. Spero che qui ci sia. Vedete che qua si va a sbloccare varie abilità. Qua va beh il cappellino, tutte quelle che sono le armature. Qua lo scavo, il farming, la pesca, la costruzione, come dicevo a livello 50, quindi è una cosa molto avanzata. Queste cose sul combattimento, la sacca di sangue, e di qua invece tutto quello che è la cucina. Adesso, tra l'altro, vedete, aumento del campo, l'esplorazione, l'amministrazione delle risorse, insomma di cose da fare. Ce ne sono parecchie, ma adesso vi faccio vedere il combattimento perché è importante anche quello. Vediamo se il danno che faccio adesso mi basta. No, mi serve 60 di danno e non lo faccio. Vedete che qua c'è... questo mi ha visto. Nel momento in cui compare il mirino potete andare a colpirlo. In questo caso l'ho gestita piuttosto bene e ok. Nel momento in cui dormite al campo, ed è per questo che vi dico che assomiglia, secondo me, a Dark Souls, per alcuni aspetti, vengono rigenerati tutti gli zombie, quindi bisogna fare molto, molto attenzione. Andiamo a esplorare questa zona che non ho ancora visto. Ci sono delle cose nascoste di forziere da trovare. Allora, ci sono anche degli zombie che... vedete che questo non mi ha visto. Avanzo piano, esce il mirino, carico, e gli tv di già metà vita. Ok. Plastica, che è molto importante. Questo non mi ha visto ancora, ma a breve mi vedrà. Niente, mi ha visto adesso. Quindi non ha neanche senso tante volte andare a dormire al falò perché si rigenerano tutti. Quindi, vabbè, continuiamo la nostra esplorazione. C'è ancora un quadrante qua sopra della mappa. Vediamo. È un gioco che mi lascia comunque tanti interrogativi perché ha una struttura molto particolare. All'inizio è molto guidata, come potete vedere, quindi non so come andrà. Sicuramente, parere mio, per le mani gli sviluppatori hanno una grandissima possibilità. Stiamo sforando in una nuova zona, nella Cartifield South. C'è una casa. C'è solo uno zombie, quindi possiamo anche pensare di affrontarlo, sperando sia realmente da solo. Ne sta arrivando un altro. Qua ci saranno zombie che lanciano acido, che fanno molto male. Ok. Stiamo recuperando un po' di roba interessanti, quindi molto bene. No, volevo andare dove c'era l'antennina perché qua c'è un po' troppa gente. Può darsi che di là ci sia un altro campo, sicuramente c'è un altro campo, ma volevo evitare questa zona perché vedete che l'incontro, lo scontro col boss è stato veramente figo perché comunque ho dovuto imparare nel pattern d'attacco, lanciava acido e prima di portarvi il video ho voluto farmi un'idea migliore di quella che è il gioco poi. E anche dopo qualche ora è difficile inquadrarlo. Qua c'è una temperatura che non so ancora esattamente a cosa serve, se è qualcosa che devono implementare, ma secondo me se lo sviluppano comunque più in modalità open world e dovrebbe sbloccarsi andando avanti, questo potrebbe essere un giocone davvero. Vedete, tenendo premuto andiamo a perquisire, troviamo delle cose. Adesso, lì c'è un falò, però io, vabbè, ma dai, facciamo. Andiamo a depositare e accendiamo il falò. E abbiamo sbloccato un altro campo, un altro obiettivo. Lì dentro c'è qualcosa. Oddio, quello lì è bello grosso, ma può arrivare da noi. Ah, dimenticavo, si può ruotare la visuale, eh. Beh, comunque, così. Allora, vediamo un po' che cos'è. Craft. Ok, possiamo upgradare il gear, ma non abbiamo nulla per poterlo fare. Lì c'è qualcosa. Andiamo a vedere cos'è, poi ci sono anche delle scritte da poter investigate. Ah, ok. Pizza, mangiala. Voglio anch'io la pizza, vabbè. Dice lui, eh. Poi in realtà lo penso anch'io, però questo non si può. Oh, mamma mia, quello lì cos'è? zitti. Mamma mia, un boss quello. Quello fa molto male. Adesso facciamo fuori il suo tirapiedi e poi pensiamo anche a lui. No, non è un boss perché... perché il boss ha la vita che esce, mi pare, se non ricordo male, in alto. C'è proprio tutta la barra alta nella parte alta dello schermo. Sicuramente adesso sta iniziando a farmi male. Posso cercare? Trovo plastica. Eh, ma è quasi a metà lui di vita, ma non voglio esagerare perché sicuramente se muoio attraverso è un problema. Sì, vabbè. Vieni, vieni, vieni qui. Sì, certo che sicuramente farlo, diciamo, muoire al campo con il demone bilioso lì non è una gran scelta. Ok. questo gioco è stata un'autentica scoperta, devo ammettere. Ma devo anche ringraziare Mirko di Gameplay Channel che mi ha fatto conoscere perché questo qua purtroppo mi era veramente sfuggito. Ce la facciamo? Sì, con un po' di pazienza secondo me ce la possiamo fare. L'importante è non tirarci addosso altra gente. Ok, ancora un colpo, ancora un colpo, ancora un colpo, ancora un colpo. Vieni qui. Ok, 500 e abbiamo preso, ok, il vomitatore. Io adesso se vado a dormire sarei molto tentato di farlo, lo faccio ricomparire, però è anche vero che sono quasi a fine vita. Ho recuperato un bel po' di materialozzi, quindi io a questo punto farei un passo indietro e salverei. Adesso vediamo, magari quello non si rigenera, non lo so. Vediamo se possiamo upgradare. No. Possiamo fare qualcosa di interessante qui, tipo la cooking pot. No, perché mi manca la ceramica. Il coltello da lancio. Qua c'è un... ok, la facciamo. Hold down to craft. Allora, questo ha un numero limitato di usi. Gli usi sono automaticamente riempiti quando riposi al campfire. Ah, ok, come la fieschetta, insomma. Una lama perfettamente bilanciata, progettata per essere gettata agli ostili. Lanciala col tasto destro, ok. Ok, molto interessante. Quindi possiamo andare. C'è il ciclo giorno nota, perché comunque la notte diventa... Uh, l'ho lanciato. L'ho lanciato e l'ho perso. Infatti qua vedete che ne ho tra solo tre. Andiamo avanti e vediamo se ce ne sono... è rinato, sì, è rinato. Fa anche un bel dannetto, eh, devo dire. Ok. Body. E adesso muoio. Adesso muoio. Purtroppo muoio. Plastica. Sì, adesso morirò. Purtroppo vi faccio vedere anche che cosa succede morendo. Lui se ne torna al suo posto. Noi siamo morti e ripartiamo dal falò dove eravamo. Sulla mappa vediamo che c'è il simbolino della tomba. Quindi possiamo andare, eccolo lì, il nostro corpo. Possiamo recuperare le cose che era solo la plastica. È una cosa che secondo me è un po' frustrante. Però vabbè. Allora dobbiamo arrivare... Eh, non abbiamo altra scelta. Questa è tutta la costa dell'isola. Quindi bisogna arrivare al punto di evacuazione. Ma il punto di evacuazione io a sto punto penso sia la cosa finale. la destinazione finale. La cosa che mi incuriosisce un po' è il fatto che comunque hanno detto che si faranno, che gli edifici c'è nel menu. Quindi mi chiedo che cavolo faranno, come diventerà questo gioco anche con la costruzione. Perché al momento, provandolo da quello che vedete anche voi, sembra essere tutto molto guidato. Sto abbastanza... Non dico story driven, ma quasi. I gemelli viziosi. Un boss. Musica bella, perché comunque creano... Vedete questo... Non devo assolutamente... Un gemello è già quasi a metà vita. Mi hanno fatto malissimo... Sono morto. Ok. Va be', è andata così insomma. niente, se poi volessi tornare a un altro villaggio ah ok, qua mi da le coordinate ok posso puntare sulla mappa dove tornare ci sono varie quest che purtroppo ho perso quindi vorrei tornare là, quindi cerchiamo magari di andarci in corsa ritorniamo indietro, questo è un urlatore ah no, sto andando in una zona che non ho mai esplorato ma veramente qua c'è di tutto, mi sto tirando dietro veramente di tutto, aia aia, aio, aio no, è andata è andata male, non si può nemmeno correre in questo modo quindi bisogna proprio andare studiando il percorso, allora vabbè ma intanto perché no, andiamo a vedere cosa c'è in quella radio lì, mettiamo traguardo lì eh, però voglio evitare quel demone lì perché è veramente frustrante il fatto che eh, dobbiamo eh no dobbiamo per forza riaffrontarlo quindi il gioco non è ancora esente da non dico da problemi neanche perché alla fine però forse per i miei gusti di giocatore è un po' frustrante questa cosa che io sono morto ho dormito al falò e devo riaffrontarmi quel demone lì è anche vero il fatto che diventando più forte il gioco comunque ci invita spesso a farlo eh i demoni che i demoni gli zombie che adesso sono abbastanza problematici per noi in futuro potrebbero diventare anche molto semplici da battere e quindi quello che mi piace del gioco è la progressione che comunque si sente e ci andrà comunque a far sentire sempre sempre più forti adesso si può passare di qua no? perché non ho abbastanza forza riesco a recuperare del legno che potrebbe essere molto importante poi graficamente è carino anche le icone degli oggetti sono belle eh vediamo un po' cosa c'è qua search ok pomodoro cook devo craftare la pentola e iniziare a cucinare con gli ingredienti che probabilmente mi farà recuperare vita quello di sicuro quindi non so neanche meccaniche così banali tanto stiamo continuando a fare esperienza quindi magari dove sto andando? no stiamo andando di qua beh a questo punto proviamo a raggiungere anche se quella quell'altro campo vediamo qua sotto cioè voglio andare alla radio sono andato alla junction station ok cos'è questo? red ok ok open è bloccato vabbè lo operiamo non è un problema ok metallo tengo premuto vedete che colpisce si aprirà dalla mia parte adesso no? è bloccato ok legname open è bloccato mannaggia 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 questo ci ha visto quello sta inseguendo il cervo che è stato un attimo aggressivo niente no voglio voglio assolutamente tornare a casa e portarmi a casa questi materiali quindi voglio tornare però qua sotto eh no non c'è un'altra entrata no ma c'è la radio c'è anche lì ah ok ok adesso quello lì non si sa dove stia andando noi beh aio noi bene non siamo messi però me ne frego e me ne torno a casa allora vediamo un po' qua c'è il coso facciamo giro da qui deposito tutto ripristino la vita e me ne frego di quello che mi sta sparando upgrade gear ok qua si possono aumentare anche i coltelli però non posso fare scrap metal wood plastic eh di roba da prendere me ne serve ancora parecchia per salire di livello quindi insomma allora ragazzi questo è un primo sguardo su dismantle lo tarremo sicuramente d'occhio per i mesi a venire e vedremo non so dire ancora il prezzo potrei ipotizzare un 14,99 19,99 sicuramente se amate i giochi con gli zombie o qualcosa di un po' diverso con un po' più di storia un po' più di progressione questo potrebbe essere sicuramente il gioco che fa per voi eh si vediamo quanto reggo tanto io qua sono già morto praticamente apri scusi chiudi questi qua sfondano la porta no no se ne vanno via open danno 24 no sono morto vabbè ragazzi questo era di smantle fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di questo titolo e alla prossima e ciao 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 Grazie a tutti.